ciao questo è un nuovo video che è il solito che faccio sui film che riescono andarmi a recuperare che come film adesso questo qua che mi sono andato a vedere si chiama Bank of Dave che lo hanno messo sulle solite piattaforme e che sono riuscito anche a recuperarlo nel guardare li volevo dedicare un video come si dice e portarlo sul mio canale che che come film ho visto che nel 2020 del 2023 però lo si potrà ritrovare adesso sulle solite piattaforme gratis solamente adesso che come si dice che la sua data di rilascio nel proprio che come paese di produzione del regno unito che la sua data proprio lì nel regno unito di rilascio è stato proprio a gennaio del 2023 però lo si poteva trovare solamente adesso ho visto come film qua in Italia sulle solite piattaforme che parlava più che altro che il film è stato basato sulle esperienze di vita reale di Dave Fishwick che segue la storia di un milionario autodidatta di Barnley che lotta per creare una banca comunitaria per aiutare le imprese locali della città a prosperare che per fare ciò deve combattere le istituzioni finanziarie dell'Itè di Londra e competere per la prima licenza bancaria in più di in più di 150 anni che più che altro magari la trama di questo film come si dice e a questa qualche come genere che come genere prende commedia drammatico che ho visto che come film ci poteva ma lei anche sa e anche se due a quelle due ore di film quasi che come regista di sempre dei film e questo Chris Foggin che vorrei vi lascio qualche informazione in più assieme a case il video trailer che vi lascio tutte sotto in descrizione che più che altro la trama del del film del film era questa qua che anche se magari può prendere come genere e commedia e compresso magari ci potevamo anche stare che magari la trama non era così tanto magari complicata magari da non è così tanto complicata però nel complesso come ha girato come sono girate le scene ci poteva anche stare come come film che visto che lo hanno messo sulle solite piattaforme l'ho voluto recupera recuperamolo anch'io nel guardare che anche dalle recensioni che ho letto prima di guardarlo ho visto che erano quasi tutte positive però magari anche come si dice nel complesso magari ci poteva magari anche stare però essendo mai una trama non così complicata è il solito film come si dice da da passarsi un po il tempo che non è il solito film che che può piacere tutti poi nel complesso e ci poteva male anche stare che più che magari la trama è questa qualche che che vi ho detto che come anche come film che si dura due ore poi lineare come film che non ci sono mai i momenti dovretti dovretti poi ma annoiare più che altro lineare come film anche se rispetto ad altri può essere così dice un po che dura un po di più del solito che questo quadro a e quindi ci poteva anche stare come film e niente quello che potevo magari dire su questo film l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao ciao